Se vedremo le indicazioni del governo, ripeto quello che ho detto nelle ultime ore, fate presto e informate gli italiani sullo stato dell'arte dei provenimenti economici molto importanti che sono stati presi. Noi lo faremo, per quanto riguarda il Lazio c'è una cabina di monitoraggio, ma è molto importante farlo. Io credo che la sfida della ricostruzione dovrà basarsi su quattro S, salute, soldi, sviluppo, che significa sicurezza. Salute, che vuol dire i provvedimenti che abbiamo illustrato, che vuol dire rete di prevenzione, vuol dire presa in carico, vuol dire tutto ciò che avete ascoltato. Soldi, noi dobbiamo mettere in tasca le persone che non ce la fanno la liquidità che li permette di vivere oggi nell'emergenza, ma anche dopo, quando uscendo da casa, si troveranno molti in una situazione di indigenza e quindi dovranno avere vicino lo Stato. Io credo che sarà molto positivo il lavoro che si sta facendo di uno strumento universale che per coloro che rischiano, cadono sotto la soglia di povertà o perdono il lavoro, però diano ristoro economico a chi a causa del Covid ha perso o l'impresa o il lavoro, non deve rimanere solo. E poi ovviamente sviluppo, perché come dobbiamo uscire dal Covid e quindi dal virus, dovremo uscire dalla presumibile fase di crisi economica e produttiva nel quale versa il Paese. E quindi continuare con il sostegno alle imprese, investire nella ricerca, nei prodotti e nel ripensare un nostro modello di sviluppo fondato sulla sostenibilità ambientale e sociale.